Il coro giovane in Sant'Anna e San Marco unisce due comunità e nasce nel 2002, un gruppo anche di amici uniti e felici di pregare insieme, estendendo anche la loro presenza all'Ecco perché canto. Il prano presentato nella scorsa edizione è il loro primo canto. Questo sogno si realizzerà, che ci dice che con Dio accanto tutto è possibile e va testimoniato. Il secondo, l'ode al tuo nome, conferma come la vita è nelle sue mani e per questo dono valo dato e ringraziato. Dirige Riccardo Rossato. Grazie. 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 Andate e fate discepoli in tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi hanno guardato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Io sono con voi, io sono con voi. Cantate e fate discepoli in tutti i giorni fino alla fine del mondo. Cantate e fate discepoli in tutti i giorni fino alla fine del mondo. E noi andremo in un mondo vivo di conto, noi andremo in un mondo. E noi andremo in un mondo vivo di conto, noi andremo in un mondo. Grazie. 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 Grazie.